E non potevamo che introdurlo così con questa meravigliosa canzone di Leonard Cohen Antem che un po' è il riassunto anche del libro che andiamo a presentare, un po' la colonna sonora sicuramente all'orizzonte della notte, in Audi Editore, io do il buon pomeriggio, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito a Gianrico Carofiglio Buon pomeriggio, grazie a voi Buon pomeriggio Allora già dico, io sono Chiara perché visto che siamo tutte voci diverse, io sono Chiara e sono in studio e appunto è collegata anche alla direttrice Luisa Bartolucci a cui lascio la parola in questo momento Quindi siete due contro uno Esatto È vero Non è insomma così equilibrata come nella box Davvero grazie per essere con noi e io tra l'altro ricordo una sua partecipazione a un nostro convegno in cui parlammo di lettura Davvero fu bellissimo sentirla parlare e raccontarci come è bello scrivere, quanto è importante È un'esperienza davvero meravigliosa quella della scrittura e tra l'altro io le sono sempre molto grata perché lei è tra quegli scrittori che in tempo reale con Emmons pubblica anche la versione in audio Ma non una qualunque versione in audio letta da lei che per me è un valore aggiunto la lettura dell'autore E anche di questo libro già abbiamo potuto fruire della versione in audio e questo è veramente fantastico E davvero un grazie già per questo Come nasce questo libro? Una nuova parte di questo romanzo enorme, questo romanzo sempre aperto La storia di Guido Guerrieri Questa volta una storia più introspettiva dove non c'è soltanto la trama, la parte cosiddetta thriller o gialla Ma c'è anche tanto di questo personaggio e forse c'è anche tanto di Gianrico Carofiglio Beh certo nei personaggi soprattutto in quelli che per varie ragioni non necessariamente in maniera lineare ci assomigliano di più La componente autobiografica che non vuol dire biografia di fatti ma biografia di emozioni è più E' più intensa Questo settimo romanzo del ciclo di Guido Guerrieri che appunto lì è ben definito insomma macro romanzo E' un'espressione che io amo, è una sorta di biografia di questo personaggio In questo settimo romanzo c'è un percorso di crisi personale particolarmente intenso Che in qualche modo rinvia alla crisi raccontata nel primo romanzo Che Guido attraversa Testimoni inconsapevole Testimoni inconsapevole Alla soglia dei 40 e quindi attraversa una per certi aspetti più devastante alla soglia dei 60 Così intensa che lui decide di fare una cosa che pensava non avrebbe mai fatto Cioè va da uno psicanalista E va da uno psicanalista la ragione narrativa di questa figura, di questo personaggio E' che Guerrieri nei romanzi precedenti parla molto con se stesso Parla col suo sacco da pugilato Mister Sacco Mister Sacco Ma in questo caso c'era prima di tutto da parte dell'autore Un bisogno di rendere più esplicite, più articolate certe meditazioni sulla vita interiore Cosicché era necessario proprio un interlocutore Qualcuno che rilanciasse la palla Qualcuno che qualche volta interpretasse esplicitamente Che consentisse a volte in modo maieutico Di tirar fuori il senso di questa crisi E il senso di questa crisi è quello di una sorta di negoziato con le ombre Alla ricerca di un orizzonte Alla ricerca di un orizzonte che a un certo punto non si vede E che bisogna intuire, che bisogna immaginare Da questo punto di vista io dico Quando mi è fatto notare giustamente Che è un romanzo in cui c'è molta malinconia La malinconia è il percorso per arrivare a riaffermare il diritto Ma anche il dovere alla ricerca della felicità Tra l'altro Carnelutti non è un qualunque psicoterapeuta È junghiano Sì, la psicanalisi junghiana mi ha sempre affascinato Per il suo carattere più letterario Fantasioso, immaginifico Quello che nelle altre scuole di pensiero psicanalitico Sono categorie astratte E Jung diventano personaggi A cominciare appunto dall'ombra Che è per Jung ciò che per Freud è l'inconscio Solo che appunto l'inconscio è un concetto astratto Per Jung l'ombra è quella parte di noi In cui si concentrano le componenti Che temiamo di noi stessi Di cui ci vergogniamo Che vorremmo tenere lontane È ciò che non riusciamo a capire Fino a quando non ci viene mostrato Che più cerchiamo di tenere fuori da noi Una parte di noi Più quella parte ci condiziona In maniera occulta ma potente È il percorso dell'analisi Della indagine interiore A me piace parlare di investigazione interiore È proprio quello di scoprire le zone in ombra E integrarle Che vuol dire Sempre stando a questo modo immaginifico Di raccontare le questioni della psiche Fare pace Col proprio alter ego in ombra Integrarlo Questo essere umbratile appunto Per tanti aspetti spaventato Che può sembrare in certi momenti cattivo O vergognoso E che è una parte di noi Con cui bisogna trattare Che bisogna accettare con indulgenza L'ombra smette di condizionarci E di produrre comportamenti sbagliati Nel momento in cui La prendiamo per mano E ci facciamo accompagnare nel cammino Una poi delle cose Che colpisce sempre di Jung Tra le altre Insomma Magari è Meno importante Però magari Il profano viene colpito Che per fare dei test Lui utilizza gli arcani maggiori Dei tarocchi Eh sì C'è anche questa cosa Guido Guerrieri A un certo punto Nello studio del suo psicanalista Mentre lui si è allontanato Invece del Rorschach Che scopre un libro sui tarocchi E essendo un uomo razionale Un uomo Diciamo Positivista Per Perlomeno è convinto di esserlo Come tutti siamo convinti di esserlo Viene un po' turbato Da questa cosa Poi però Lo psicanalista gli spiega A Jung A me I tarocchi Non servono Per predire il futuro Che È molto probabilmente Una sciocchezza Ma servono Per interpretare il presente Le figure Allegoriche Metaforiche Dei tarocchi Sono dei modi Per individuare Le componenti Della nostra personalità Per metterle ancora una volta In comunicazione Per dare senso A cose Il cui senso spesso Invece ci sfugge Peraltro il libro E in qualche modo Ci sono due percorsi No Paralleli Quello Dell'avvocato E quello proprio Dell'uomo Che Compia il suo percorso Insieme a Carnelutti È molto bello Anche questo Modo Di suddividere Questi Due percorsi Che però In qualche modo Insomma Si alternano E il lettore Davvero Può goderne appieno Ripeto A me Mi piace L'idea Del Il concetto Di romanzo Di investigazione Per questo tipo Di storia Perché c'è una parte Che narra Di un processo Di un'investigazione Nell'accezione Più classica Diciamo Convenzionale Del termine E poi c'è L'investigazione Interiore Ma a volte I mezzi Non sono così diversi E soprattutto La ricerca di senso Che è poi La ragione Per lo meno Per me Dello scrivere Romanzi Alla fine Trova una composizione Fra questi due Percorsi Percorsi Anche in questo romanzo Il compagno Il compagno Di sua sorella La sua sorella Gemella Elena Che Si è suicidata Ma poi Se si può parlare Di un vero e proprio suicidio O un po' Indotto Si tratta Di un abusatore Di un abusatore Di un manipolatore Probabilmente seriale Meno provvisti Per lo meno In un'opera narrativa Insomma Non se ne parlava molto Non esisteva il reato Gli uffici giudiziari Gli uffici di polizia Erano sprovvisti Di strumenti Che oggi per fortuna Ci sono Per contrastare Questi comportamenti Pericolosissimi Prima che Sfociassero Diciamo In azioni Letali È una questione Mi verrebbe da dire Mi ossessione Ma forse è eccessivo Insomma Che avverto In maniera Molto Intensa In questo caso Come per altri Ad occhi chiusi Io volevo Narrativamente Uccidere un abusatore E poi Insomma Vedere che succede Nel processo Su questa faccenda qua Ripeto Ho messo Tra virgolette Dico narrativamente È un modo Come posso dire Di elaborare L'indignazione Il senso Di rivolta Che produce Non solo Nelle donne Ma in tutti Gli uomini Che non siano Partecipi Di quel Meccanismo Perverso Di potere Sul corpo Delle donne È un modo Di elaborare Quel senso Di indignazione In una Marrazione Che ovviamente Poi ha le sue regole E anche i suoi aspetti Di suspense Che non svediamo È anche interessante Che sia una donna Ad uccidere Un abusatore Per quanto mi riguarda In ad occhi chiusi Addirittura Era una bambina Quasi adolescente C'è questo tema Ritorna C'è questa idea Della donna Che si fa Giustizia Da sé Che è ovviamente Una cosa sbagliatissima Però nei romanzi Si può fare Nei romanzi Che si presti Che si presti Maggiore attenzione Ad una tematica Però indubbiamente Ha la sua importanza Io credo di aver letto Peraltro che Da occhi chiusi Venne anche citato Da diverse parlamentari Quando si discusse La legge Sullo stalking Così mi hanno detto Io Così mi hanno detto Non sono andato a vedere Il risultato Quanti parlamentari Ma mi hanno detto Questa cosa E' importante No? Si Uno Perlomeno Io non scrivo romanzi Per dare ammaestramenti No è chiaro Però non c'è dubbio Che se uno racconta Per me la storia È fine a se stessa Quando dico fine a se stessa È per il Per il piacere di Il bisogno Della narrazione Nella speranza Che i lettori E le lettrici Trovino Motivi di identificazione Motivi di appassionarsi Motivi per pensare Ma anche ragioni Per come dire Ricavare Un semplicemente piacere Dalla lettura Poi è ovvio Se uno racconta Delle storie Mettendo Se stesso Se stessa Le sue passioni Le sue idiosincrasie La sua indignazione Questa roba Avviene fuori Non come oggetto Di un'azione deliberata Ma come effetto naturale Di un racconto onesto E queste cose Che vengono fuori Certo possono produrre effetti Nel mondo reale Cosiddetto Qualunque cosa significhi Il mondo reale Ed è importante Che sia così Tutto sommato Perché è quasi Un sostegno in più Che si può Che si può avere In quel senso Si può trovare Nei romanzi Nei romanzi Si può trovare A volte un conforto Un conforto enorme Inatteso Io vivo Una condizione Di grande privilegio Perché tante persone Leggono i miei libri E tante persone In modo E per ragioni diverse Le apprezzano Però ci sono alcune cose Che mi sono state dette Che più di altre Mi rimangono impresse Una Mi colpì enormemente Era una donna Peraltro molto Nota Non cito Per Ma mi disse La incontrai Diversi anni fa Era già abbastanza grande Mi disse Guardi Io sono debitrice E io In che senso Voi ce sa Qualche mese fa Mio marito Doveva fare Un intervento chirurgico Estremamente grave Quindi entrò In In sala operatoria Diciamo Ovviamente Senza nessuna certezza Che ne sarebbe Uscito vivo E io Nella sala d'attesa Mi sono messa a leggere Il suo libro Che credo fosse Proprio testimone inconsapevole Comunque Era un guerrieri E invece così Dio mi perdoni Mi sono dimenticato Dall'intervento chirurgico E quando sono usciti A dirmi Che era andato tutto bene Io stavo leggendo Beh È bellissimo Questo È bellissimo Si ha Una Una grande soddisfazione Per chi Per chi scrive Tra l'altro I suoi romanzi Sono spesso diventati O O fiction O film Spesso C'è questa Che No Se siano migliori I libri O migliori Le fiction Ma Non ha molto senso Perché sono due linguaggi E due forme di Linguaggi diversi Certo Sono molto Estremamente Diverse Però c'è da dire Ad esempio Lei Come autore È rimasto soddisfatto Di tutto Ciò che è stato Trasposto Perché molti autori Sono contenti Molti altri No Ma facciamo una premessa E che è poi quello che ha detto lei Sono linguaggi diversi Quindi l'autore O l'autrice Che si aspetti Che il film O la serie Sia uguale Al libro È destinata Diciamo così In maniera del uso Questo senza dubbio Quindi la premessa è questa Quello che uno può aspettarsi Entro certi limiti Cercare di ottenere Che il film O la serie Colga lo spirito E lo riporti Con le sue Movenze Espressive Dopodiché Soddisfatto È difficile Anche se uno Riesce a praticare Questo atteggiamento Che secondo me È corretto Poi è ovvio Che uno è legato Al suo Mezzo espressivo Però secondo me Alcune delle cose Tratte Dai miei libri Erano Dei buoni Prodotti Televisivi In qualche caso Anche più che buoni E qualche volta invece no Ha intenzione Anche per esempio Di trasporre L'è stato proposto Questo Guerrieri Anche per O la tv O il cinema Ci sono Ci sono dei progetti Molto Diciamo Seri Avanzati Non ancora Definitivi Ma quasi Per cui Non specificamente questo Ma insomma Guerrieri Dovrebbe ritornare In televisione In una versione Completamente nuova E insomma Un progetto Che per come lo sto vedendo Mi sembra un ottimo progetto Guerrieri Date Simone Inconsapevole All'orizzonte Della notte Come è cambiato È più cambiato Guerrieri O è più cambiato Gianrico Caro figlio In questi In questi 20 quasi anni E chi lo sa Ma È veramente difficile Da dire Certamente io sono cambiato E certamente anche lui È cambiato Se proprio Dovessi rispondere Senza andare Alla ricerca Dei giri di parole Forse sono più cambiato io Se guardo Come ero Quando ho cominciato A scrivere Come sono adesso Vedo veramente Una persona Diversa Non parliamo Diciamo così Del me stesso Di 30 anni fa Quando Proprio facevo Tut'altro Sono successe Un sacco di cose Alcune passano Diciamo Magari senza lasciare tracce Altre invece Producono effetti A volte duratori Quindi sì Direi che Forse è più cambiato L'autore Nel personaggio Per quanto riguarda La lettura Ad alta voce Che cosa rappresenta Per lei Che significato Ha per lei Questo Leggere Ad alta voce Molti scrittori Non amano farlo Altri amano farlo Alcuni Lo associano Al modo Al vecchio modo Di raccontare cose No Ognuno ha un po' Una sua visione Della lettura Sono tutte quante Più che legittime Per quanto mi riguarda Intanto L'ultima Che ha detto L'idea Di raccontare Una storia O di leggere Un libro A qualcuno Che sta ascoltando Per le più varie ragioni Non lo legge Direttamente Mi piace Mi piace moltissimo Mi piace Vedere Come si articola Quella storia Che è scritta Nel momento in cui Cheggia Nella voce Dell'autore Che deve essere chiaro È una voce È una interpretazione Che non è un'interpretazione Nel senso Dell'attore Quindi di tipo teatrale Cioè Uno legge un libro A una persona Che lo sta ascoltando Poi magari Lo stanno ascoltando Migliaia O decine di migliaia Di persone Ma il meccanismo È sempre lo stesso Il rapporto Sia con i libri di carta Che con i libri di voce È sempre uno a uno E ogni singola lettura Ogni singolo ascolto È un momento Creativo diverso Perché ogni lettore O ascoltatore Lettore Costruisce In complicità Con lo scrittore Un mondo di fantasia Che è perlomeno In parte È diverso Dopodiché Leggere i libri A alta voce Poi per me Ha un altro valore Aggiunto Che è molto più Personale Professionale Non c'è nessun modo Per accogliersi Dei difetti Di quello che hai scritto E leggere la alta voce Devo dire In effetti Ovviamente Io leggo Quando comunque Il libro è licenziato Quindi se c'è Qualche cosa Che non mi va bene Me la tengo E basta In qualche caso In qualche caso In qualche caso Ho detto Dio Chi ha scritto Sta roba In qualche punto In qualche altro Per essere Diciamo onesto Con me stesso Ho detto Beh questa Questa parte Non è male C'è qualche libro In cui Arrivato alla fine Non ho trovato Quasi nulla Di cui lamentarmi E questo ovviamente È una soddisfazione In altri Impari Dai tuoi errori E dai difetti Di quello che hai scritto Tra l'altro Come dicevo In precedenza Per me È un valore aggiunto La lettura da parte Dell'autore Perché Le pause I respiri Ciò che veramente Vuol dire La lettura da parte Degli attori Che ovviamente Dal punto di vista Della tecnica Della voce Non è Non è paragonabile Perché insomma Un bravo attore Professionista È inutile dire Però non sempre Interpretano Ma stavo arrivando Stavo arrivando Al punto La questione Che spesso Capita che L'attore Legga il libro Per la prima volta Quando lo sta leggendo Per l'audiolibro Ci sono casi In cui semplicemente E inevitabilmente Non capisce Lo spirito Di quello che sta Leggendo E quindi a volte Senti l'enfasi Quando ci vorrebbe Un surro A volte C'è un tono Come posso dire Altisonante Quando dovrebbe essere Sommesso intimo Io ho Smesso di fare Letture di attori Le mie presentazioni Da parecchi anni Salvo Se non mi prendono Di sorpresa Quando una volta Con un attore Anche diciamo Con una certa reputazione Questo fece due In pubblico Letture disastrose Di cui c'è una parte Che doveva essere Commovente Intima E questo La lesse Parlerò come Un giovane Attore Appena uscito Dall'Accademia D'Arte di Romani Fu veramente Catastrofico E quindi Naturalmente Al di sopra Di un minimo C'è chi non è Capace di leggere Nessuno sa fare tutto Ma ecco Io preferisco La lettura Del A parte il mio caso In generale Dell'autore Dove le piace Scrivere? C'è un luogo Dove le piace Scrivere? Io scrivo Un po' Dappertutto Anche perché Scrivo in maniera Disordinata Con poco metodo Dopodiché Da qualche anno Casa mia a Roma È un posto In cui scrivo Granpa Mi piace abbastanza Ecco Se dovessi dire Un posto Dove scrivo di più E dove Mi piace abbastanza Lavorare Questa casa Le piace Scrivere Con il computer Oppure Le piace Farlo su carta E poi No Diciamo che Uso Tendenzialmente Il computer E spesso O perlomeno a volte Mi capita Di dettare Quando non ho voglia Di scrivere Cioè quasi sempre Cerco di Aggirare La mia Pigrizia Accendendo Insomma La funzione Di registrazione E dettando Quello che Voglio scrivere E questo Effettivamente Spesso funziona Perché Scrivere Più impegnativo Psicologicamente Ti dà l'idea Anche se non è così Che stai facendo qualcosa Che poi sarà quello Il libro Invece non è così Ma invece Parlare Da una maggiore libertà Quindi consente Un accesso Più Fluido Alle cose Che Che voglio Di dire Qualche volta Qualche volta Scrivo Con la penna Non fosse altro Per evocare Il ricordo Diciamo La memoria muscolare E tante volte Mi capita Di portare con me Un tacquino A certo Di prendere appunti Ti prendo anche appunti In tutti i modi Sul tacquino Sul telefono A volte su dei foglietti Di carta Insomma Come capita Mi piace Anzi da un po' Lo sto facendo Più spesso Di nuovo Il gesto di scrivere A mano Ma non La scrittura Vera e propria Del romanzo Fermare qualcosa Su carta Perché non Sì E fermare la mano Sulla carta Mi piace vedere La grafia Anche se faccio Diciamo Sempre più Fatica Diciamo A dicifrar Quello che scrivo Mentre Le sentivo dire Che è appunto Detta No Quasi È quasi Un raccontare Anche quello È certo Sottamente È così Fantastico Veramente bellissimo Chiara? Allora Allora Tante domande Io ho Anche perché Sono una fan Abbastanza Insomma Seguo Seguo la serie Soprattutto dell'avvocato Guido Guerrieri Devo dire Da molto tempo E quindi Ho trovato questo libro Molto diverso Però dai precedenti Non so se è una mia Impressione La domanda Che è molto più Introspettivo Molto più Concentrato Proprio Sull'avvocato Sul suo personaggio Anche se si parla Molto della storia Naturalmente Legale Che come sempre È alla base Di tutti Di tutti i romanzi Di tutte queste serie Però insomma Il personaggio Di Guido Guerrieri Questa volta È molto concentrato Su di sé Perché parla Anche in questo caso Di donne Ma lo fa molto meno Anche questo Rientra un po' Nella maturità E nel cambiamento Del personaggio E dello scrittore Beh Insomma La Non dico assenza Ma la presenza Più laterale Di personaggi femminili È dovuta Diciamo A una cosa Che magari Non diciamo Per non togliere La suspense O comunque La scoperta narrativa A chi non ha letto O ascoltato Ma certo C'è un evento Drammatico Legato O meglio Più eventi drammatici Legati al suo rapporto Col mondo femminile Che in qualche modo Mettono sullo sfondo Questo tema E certo La narrazione Introspetiva Che c'è anche Negli altri Ma qui Certamente Molto più intensa Molto più Dolorosa Ma anche più Non dico Sistematica Ma comunque Strutturata Dalle Conversazioni Con lo psicanalista Si muove Alla Ricerca Del Nucleo Profondo Diciamo così Della sofferenza Della tristezza Del senso Di Finitezza Di mortalità Che sono le cose Con cui lui Si confronta E Che elabora Che elabora In questo racconto Di se stesso Allo psicanalista E anche A se stesso E Quello che dicevo Prima Però La mia Non che io Abbia deliberato Di fare Quello che sto Per dire Ma il senso Del romanzo Per me È quello Di un percorso Di un negoziato Con le tenebre Con l'oscurità Con il senso Del Più doloroso Della propria Umanità Nella Prospettiva Però di Trovare un nuovo inizio In qualche modo Ecco C'è una frase Che gli dice Lo psicanalista Che è una cosa In cui io credo molto Lui dice Ho due Convinzioni Dice lo psicanalista Che non Che considero Postulati Quindi non ritengo Di dover giustificare Sui quali Non ritengo Di dover argomentare Se qualcuno Non è d'accordo Non è d'accordo E basta I due postulati Sono Il Primo Che abbiamo il dovere Di mantenerci vivi In buona salute E il secondo Che dobbiamo far sì Che la vita sia degna Di essere vissuta Ecco Questo è un romanzo Che racconta Del diritto Dovere Di far sì Che la vita Sia degna Di essere vissuta A proposito Di citazioni Ce ne sono veramente tante Quando leggi Questo libro Hai voglia Di segnartele tutte Quanto meno Per ricordarteli C'è Aristotile C'è Gaet C'è molto Come sono venute Uscite queste citazioni Nel senso Sono citazioni Che lei ha trovato E ha segnato Perché voleva Effettivamente riusarle Fanno parte Del personaggio E quindi Sono venute In maniera naturale Sicuramente È un romanzo Molto arricchente Anche da questo punto Di vista Ma ci sono Sostanzialmente Due modi In cui queste citazioni Entrano nei miei romanzi In tutti Ce ne sono molte Una è Mentre scrivo E sto Trattando Un tema Più in fuori Qualche cosa Che ho letto Che può avere a che fare Con quel tema E può arricchire Il racconto In quel punto specifico Le citazioni Sono materiale Pericoloso È molto facile Che diventino Ostentazioni Tentativi Di eseguire Le proprie letture Le proprie conoscenze L'unico modo Per me Etico Dico etico Dal punto di vista Della scrittura L'etica della scrittura Di citare È Che la citazione Serva A far andare avanti La storia O a spiegare meglio In modo implicito Chi è Il personaggio Che cosa vuole Alcune di queste Quindi vengono fuori Mentre sto scrivendo Rispetto a un certo tema Mi viene in mente qualcosa Ci sono altri casi In cui trovo qualcosa Che mi piace Leggendo Altri libri Me la segno Me la scrivo Appunto sul taccuino Sugli appunti Nel telefono Del computer E mi dico Questa Questa Da questa potrebbe Venire fuori qualcosa In effetti Capita che poi Da delle citazioni Che colpiscono La mia fantasia Vengano fuori Dei pezzi Di racconto Quindi il percorso È in qualche modo Inverso Molto bella Quella di Aristotele Che parla di come Le virtù Debbano essere Allenate Come muscoli Ecco Non si nasce Buoni E si rimane Buoni per sempre Devi esercitarti A fare atti Di bontà Diciamo così Atti morali Perché Quel muscolo Si rinforzi Questa è una Grande verità Che però È una verità Carica di Speranza per me Che sta a noi Decidere Anche tutta la parte Devo dire Mi è piaciuta molto Che se non sbaglio Era proprio collegata A questa frase Nella quale a volte Si danno per scontate Delle virtù che abbiamo Infatti A riferimento a questo Proprio Che Che Carnelutti In uno dei colloqui Con Carnelutti Asce fuori Questa considerazione Che magari uno Dà per scontato Una caratteristica Propria Che viene naturale Quindi non è Un pregio E invece A volte siamo Forse noi I giudici più severi Con noi stessi Anche Anche riferimento Al discorso Che chiedeva Prima Prima Luisa Qual è la cosa Che la preoccupa di più Durante Quando qualcuno Legge un libro Se c'è un giudice Severo Forse Forse Lei è il primo A giudicare il suo lavoro Ma sì A parte Io credo che Quando si scrive Si debba essere Non durante la scrittura Nella rilettura Quando si scrive Bisogna lasciare da parte Il giudice Perché altrimenti Quello tende a interferire Sul flusso Quindi il giudice Deve però subentrare Dopo Deve essere piuttosto Spietato Quanto alla Individuazione Di debolezze Errori Cadute di stile E così via C'era Hemingway Che diceva Che la caratteristica Fondamentale Di un buono scrittore È avere uno Shit detector Sempre in funzione Come stessimo Un po' inelegante Per dire Che devi essere Capace Di scoprire Le cose Fatte male Da te Non solo Quelle negli altri A scoprire Quelle negli altri Siamo bravissimi Tutti quanti E quindi Per quanto riguarda La scrittura Io sono un fautore Della Spietatezza Dell'autore Su quello Che lui O lei Ha scritto Dopo che L'ha scritto Ripeto Non prima Quanto alla vita Interiore Il discorso Un po' diverso Carneluti O psicanalista Lo dice A un certo punto Smetta di essere Così spietato Con te stesso A volte Siamo ingiustamente Spietati Con noi stessi La pratica Della indulgenza Con gli altri Certamente Ma anche Con noi stessi È una pratica morale Anche il cognome Di Carneluti Non è casuale Ne avevo messo Uno diverso All'inizio Ed era un cognome Straniero Ma poi Non so perché Mi è perso Un'affettazione E proprio Quando mi sono Messo a pensare Quale potesse Essere la straneria È venuto fuori Questo Carneluti Che boh Per chi non lo sapesse Insomma È il nome Di un grande Giurisdizio Del secolo scorso E Boh Significa qualcosa Forse no Insomma È saltato fuori Ci sono anche Degli aspetti Di casualità Per fortuna Nelle scelte Letterarie Artistiche Però Secondo me Suona bene E questo È l'importante Sì a che punto Per lei Un romanzo Diventa quasi Un viaggio Una scoperta Sempre Non può essere Che questo Io lo dico Anche in forma Di metafora Quando io Comincio a scrivere Un romanzo So più o meno Qual è la tappa Di partenza Chi sono i viaggiatori E dove stiamo andando E dove stiamo andando Quello per me È importante Sapere Saperlo In anticipo Sapere come va a finire Un posto che non è Diciamo Una regola Ognuno Si comporta Come preferisce Però per me Sapere dove Arriverò Alla fine È un aiuto Per rendere più Compatta La storia Per evitare Le divagazioni Come posso dire Non necessarie Le divagazioni dannose Perché a me Le divagazioni piacciono Però Un conto è la divagazione Che stai facendo un viaggio A un certo punto Ti fermi E vai in una trattoria A mangiare Sapendo che dopo Tornerai sulla strada principale Un altro è che Devi Perché non sai Dove stai andando Cosa ripeto Che può portare A cose molto interessanti Ma a volte anche A diciamo Fili sospesi Che anche in ottimi romanzi È dato Scoprire Quindi A me piace Sapere dove Parto E dove arrivo E poi Quindi quando Inizia a scrivere Ha già tutta La storia La trama No No Io so dove comincia E so come andrà a finire Ovviamente ho un'idea Il percorso poi Il percorso C'è l'articolazione Di questo viaggio Le divagazioni Le deviazioni Le battute Dal resto Le pause Tutto il resto Sono la scrittura Cioè il viaggio L'orizzonte della notte È l'ultimo Della saga Di Guido Guerrieri C'è qualcuno Che dice così No Sto attento A rispondere A questa domanda Perché qui ci sono Lettori E lettrici Che mi scrivono Citandomi Miseri Non deve morire Con tutti i rischi No Quello che si può dire È che esiste Una circolarità Fra testimone Inconsapevole E questo romanzo Cioè c'è Nella mutata Epoca della vita Che si racconta Una Vicinanza Di temi Tant'è che ci sono Delle citazioni Anche non esplicite Ma chi ci ha voglia Di trovarle Le trova In quest'ultimo Rispetto al primo Dopodiché Non muore nessuno E al momento Non mi immagino Un'altra storia Ma magari Fra qualche anno Certamente Non prima Mi viene Chi lo sa Io sono convinta Che ci sarà Perché Non dico nulla Ma c'è un Qualcosa Che mi ha colpito E sono sicura Che ci sarà C'è una grepa Attraverso la quale Entra la luce Se vogliamo Continuare A fare le citazioni Quindi è probabile Che sia Il titolo è bellissimo Proprio perché In realtà Non esiste L'orizzonte della notte Eh no L'orizzonte È un effetto ottico Quindi Si vede solo Quando c'è la luce Però appunto Questo offre lo spunto Per fare una riflessione Sull'orizzonte Ovviamente Come metafora E sul fatto che Dovremmo riuscire A vederlo A immaginarlo A figurarcelo Anche quando non si vede Un'altra domanda Che spesso Facciamo Insomma Agli scrittori Che ci interessa È quella del rapporto Con i personaggi Un pochino Prima Luisa Già l'ha chiesto Però io mi domando Se Sarà facile Lasciare andare Questo personaggio L'accompagna Da 22 anni E se qualche volta Le capita Come pure penoglio Sì appunto Le capita magari Di parlare Con Guido Guerrieri Come Come a Guido Guerrieri Capita di parlare Col sacco No Parlare con il personaggio No devo dire Questo non mi è mai successo Ma qualche volta Lo dico Come una battuta Però effettivamente Qualche volta È capitato Col passare degli anni Che io mi sia chiesto Che cosa Avrebbe fatto lui O cosa Mi chieda Cosa farebbe lui In una certa situazione Come un meccanismo Che sfugge Per un attimo Al controllo Ma va bene Va bene così Mi farrebbe strano Se non accadesse Qualcosa di simile Dopo appunto Come ha detto bene Una convivenza Di circa 22 anni Diciamo L'è più simpatico Guerrieri O Fenoglio Come L'è più simpatico Guerrieri O Fenoglio Ma sono 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 diversi Sono Per certi aspetti Fenoglio Addirittura Più chiuso E introspettivo Diciamo Forse Nei suoi momenti buoni Forse La compagnia di guerrieri Potrebbe essere Più divertente Insomma È di buon umore Effettivamente Più che in questo Negli altri In questo Sono veramente Pochi momenti Di ironia O in cui Uno può farsi Una mezza risata Ma nei precedenti Ci sono anche Delle cose Diciamo Mi dicono Che insomma Che fanno ridere parecchio Questo mi piace moltissimo Uno dei miei complimenti preferiti Quando mi dicono Ci hai fatto ridere Spero che ridano Per quello che scrivo Non di me Ma insomma Questo non lo scopriremo mai Qualcuno diceva Che è l'ultimo Qualcuno dice Che è il migliore Dei sette Lei ce l'ha una classifica No No vero Però va bene Se mi dicono Che il migliore È questo qua Potrebbe essere Un argomento Diciamo Per dire L'ultimo Però in realtà Non è così Non funziona In questo modo Quando ho scritto Il primo Già mai Dico Già mai Avrei pensato Di fare un seguito Me l'ho chiesto Il Lira Sellerio Io La trattai Insomma Trattai Insomma Risposi Con Un filo Di Sufficienza Tipo No ma adesso Devo scrivo un'altra cosa Non penso proprio Di fare una serie E roba del genere Infatti tre giorni dopo Infatti è un macro romanzo Come dice lei Eh sì Sì appunto È il mio modo di uscirmene Ma insomma Quindi In generale Non bisogna fidarsi Di quello che dicono Le persone Su quello che accadrà Nel futuro Men che meno Di quello che dicono Gli scrittori Che sono bugiardi Per mestiere Però una verità Ce la deve dire Perché altrimenti Mandiamo Mandiamo le persone In giro Per nulla Perché magari C'è qualche Appuntamento E qualche altra Presentazione Nelle prossime Settimane Che possiamo dare A chi ci ascolta Mi raccomando E prossime settimane Dunque Dunque Credo di essere Il sicuro A memoria Mi pare che il 13 Sarò a Ponte Sì il 13 Quindi fra qualche giorno Sarò a Ponte d'Era Una conversazione Con Marianna Aprile Ah che bello Poi se volete Se volete Posso dirvelo Un paio Un paio Se no poi dopo Veramente va a finire Una cosa che vi dico Volentieri Non so come Su quanto Sarà possibile Entrare Ma il giorno 23 Faremo a Bologna Una conversazione Con Monsignor Zuppi Che è un personaggio Che a me piace molto Quindi quella È un'occasione Non per parlare Di letteratura Ma di altre Di altre cose Non le facciamo Domande di politica Non le facciamo Domande di sport Le evitiamo Noi la ringraziamo Per essere stato Veramente con noi Per averci Dedicato il suo tempo Grazie a voi Grazie a voi Un saluto A tutti gli ascoltatori E le ascoltatrici Grazie ancora Ricordiamo il libro L'Orizzonte della notte In audio editore Gianrico Caro figlio È stato con noi È stato con noi